Una situazione esplosiva che porta nuovamente sotto i riflettori il problema della mala movida fiorentina dopo piazza Santo Spirito, Santa Croce e Leopolda ad essere presa di mira da gruppi di giovani ormai sempre più non curanti delle regole sconsiderati nell'atteggiamento ed irrispettosi nei confronti dell'autorità dei cittadini in generale è la zona di Borgopinti, caschi e bottiglie di vetro lanciati in strada e sui muri, consumo di stupefacenti, motorini danneggiati, portoni usati come orinatoi, offese ai residenti che stremati e scoraggiati dalle finestre chiedono silenzio. Una situazione degenerata dall'estate scorsa ovvero da quando ha aperto un nuovo pub al posto di un negozio di abbigliamento la strada viene invasa ogni fine settimana da almeno 300 ragazzini dai 16 ai 25 anni che dopo aver bevuto un drink dietro l'altro si lasciano andare ad episodi di grave inciviltà. A preoccupare ulteriormente i diversi appelli di denuncia sotto forma di email, di video e di testimonianze dei residenti che però al momento non hanno riscontrato l'effetto sperato né tantomeno. Sollecitato una risposta concreta da parte delle istituzioni è stata inviata una PEC a comune e vigili ma ancora nessuna risposta raccontano gli abitanti della zona. Insomma ha poi concluso l'accorato e disperato appello ciò che accade tra Borgopinti e via di mezzo è davvero inaccettabile e la situazione è sempre più insostenibile ed è palese come esista un problema di ordine pubblico e sarebbe il caso che Palazzo Vecchio, Prefettura e Questura se ne occupassero immediatamente.